io il cappello l'ho terminato ho lavorato anche la tesa e inserito il filo di sostegno e adesso vi dico come procedere per la parte retta e per la tesa lavorato l'undicesimo giro quello di mezza maglia alta punto su punto abbiamo concluso la lavorazione della corona partendo dalla chiusura del giro nel primo punto andrete a lavorare tre punti alti lasciate liberi tre punti di base nel punto successivo andrete a lavorare tre punti alti questo è il primo giro per la lavorazione della parte retta ed è anche il dodicesimo giro tutti i numeri sono sempre riferiti alle mie misure quindi terminato questo primo giro per la parte retta in cui andiamo a recuperare i gruppi di tre maglie alte come vi ho spiegato prima i giri successivi li andremo a lavorare semplicemente con tre punti alti in ogni spazio disponibile per la parte retta io ho lavorato un totale di dieci giri terminati i dieci giri per la parte retta che corrispondono ai miei nove centimetri ho iniziato la lavorazione della tesa nel primo giro in cui ho iniziato la lavorazione della falda e che corrisponde sempre per le mie misure al diciassettesimo giro nello spazio ho lavorato a inizio giro tre punti alti nel primo spazio ho lavorato un secondo gruppo di tre punti alti nello spazio successivo e dopo ho fatto l'aumento praticamente in questo giro andremo a lavorare un aumento che è composto da due maglie alte una catenella e due maglie alte nello spazio ogni due blocchi di tre vedete i due blocchi singoli e l'aumento i due blocchi singoli e l'aumento e questo è il primo giro per la lavorazione della tesa e che mi corrisponde al diciassettesimo poi ho lavorato dal diciottesimo giro che è anche il secondo per la lavorazione della falda un gruppo di tre maglie alte in ogni spazio disponibile ho ripetuto questo secondo giro della falda per altre 1 2 1 2 3 4 per altri cinque volte per un totale di sei giri terminato l'ultimo giro per la lavorazione della falda ho lavorato un giro di punti bassi in cui ho inserito il filo di sostegno ne ho lavorato un secondo sempre a maglia bassa punto su punto inserendo ancora un altro filo di sostegno e poi ho dato due giri di rifinitura nei colori del cappello uno in grigio e uno in grigio e uno in nero lavorando un punto basso in ogni punto disponibile e il nostro cappello è terminato e con l'inserimento del filo di sostegno vedete che la tesa non sfarfalla ma è bella distesa spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento se non l'avete fatto iscrivetevi al canale lasciatemi un like e condividete io vi aspetto per i prossimi video sul canale trovate il cambio filo e tutti i video che possono essere utili per la lavorazione di questo cappello compreso l'inserimento del filo di sostegno